Sono Mariella, sono qui da sempre, mi sembra, sono nata qui e sono cresciuta qui, vecchiero qui probabilmente, mi piace, mi piace stare qui, è il mio gruppo, perché noi siamo un gruppo, non possiamo stare uno senza l'altro, questo gruppo funziona perché tutto funziona, siamo amici, ci piace il lavoro che facciamo, continuiamo a farlo con entusiasmo, oggi c'era anche la musica, quindi... Cosa dici di questa giornata? Perché ci avete ospitato molto carinamente, con tanto entusiasmo, insomma, se puoi darci un tuo commento. L'abbiamo fatto volentieri, ci piace, poi io sono un'amante della musica, mi piacciono i concerti, mi piace tutto, guardo sempre che cosa suonano, chi suona nei concerti e queste cose qua, se sono strumenti Yamaha, li vedo sempre sovente e quindi ho ospitato volentieri questa partnership, Speriamo di farne altre, speriamo che vi piaccia, che possiate tornare di nuovo e fare un'altra giornata così, sempre più musica e sempre più motori.